musica 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 chi è questo giocatore? misterioso musica dai bravi raga non ci basta musica 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 chi è questo uomo? scusi scusi chi è lei? chi è lei? musica 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 adesso vi presentiamo il grande acquisto della squadra dei vecchi per il mercato invernale grazie per i flash il mercato invernale 2013 prego sarà mai questo giocatore questo giocatore abbiamo quattro a noi Andrea Berli allora giornalisti sediamoci pure a voi le domande io sono a vostra disposizione e qui per voi buongiorno Bernegole buongiorno a tutti grazie ma ascolti Bernegole perché hai scelto questa squadra? ma io è la maglia che ho sempre sognato sin da quando ero bambino e quindi ho sposato questo progetto e ringrazio il mister di avermi scelto devo dire che l'abbiamo comunque rincorso per molto tempo abbiamo cercato di mantenere la cosa segreta e finalmente siamo riusciti a metterlo sotto contratto un'altra domanda? un'altra domanda, grazie e buongiorno Bernegole ma questa squadra dove può arrivare? ma penso possa arrivare in alto credo molto nella squadra e nel tuo progetto quindi soprattutto nei triangolari che ci aspettano punteremo molto in alto ma senta, è vero che è sua moglie che l'ha fatto scegliere questa destinazione? ma ehm si diciamo che ha inciso molto il cavallo il cavallo ha inciso parecchio in questa scelta avete altre domande? tempo è vero, dobbiamo allenarci ragazzi Bernegole è un'altra cosa ascolti ma ha già parlato con il mister della possibile collocazione in gambo? ma io sono a disposizione del mister quindi qualsiasi ruolo per me andrà bene spero di soddisfare il mister in tutte le sue scelte non ti preoccupare troveremo la sua posizione lo inseriremo sicuramente negli schemi della squadra nella maniata un po' tur vedete altre domande? che poi abbiamo l'allenamento ragazzi abbiate pazienza ma è uscita la notizia di una spaccatura all'interno dello spogliatoio dei porci cosa ci può dire a riguardo? ma guardi preferisco non commentare questa cosa ho un ottimo ricordo della vecchia squadra ma preferisco non commentare per favore ci dica qualcosa in più no grazie preferirei fare un'altra domanda grazie ma pare che comunque fresco 2013 abbia provato in qualche modo a convincerla e a farle firmare un nuovo contratto sono giunte queste voci in redazione no 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 guardi non preferisco non commentare sul passato un buonissimo ricordo ripeto un buonissimo ricordo della vecchia squadra un saluto tutta la vecchia squadra va bene grazie direi che con le domande siamo a posto e adesso è ora di andare a lavorare grazie grazie